Nelle coefore assistiamo al secondo episodio della trilogia. Molti anni sono passati, ma la ruota della vendetta non ha smesso di girare. Oreste, il figlio di Agamennone e Clitemnestra, vuole vendicare l'assassinio del padre, uccidendo la sua stessa madre. Per far questo rientra ad Argo di soppiatto, si reca sulla tomba di Agamennone e si taglia un ricciolo di capelli, offrendolo al padre come pegno di vendetta. In quello stesso momento sua sorella Elettra è andata anche lei sulla tomba del padre, accompagnata da fanciulle portatrici di offerte, le coefore del titolo, che formano il coro della tragedia.